per la seconda batteria si stanno preparando Andrea Grendene in corsia 1 Jacopo Buzzolan in 2 Victor Sciandro in 3 Nicola Lorenzetto in 4 Ismaele Bonelli in 5 Davide Bragatto in 6 Giacomo Menapace in corsia 7 Ammessi alla finale ragazzi 2004 Riccardo Cendron, Valerio Salzano, Davide Agnolin Liaco Dardini, Francesco Della Mea, Nedad Diuricic, Lorenzo Meucci, Samuele Spadetto Ultimo tempo, 1-9-67 Leonardo Zanotto è tanto per la prima batteria 1-8-21 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti